Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo insieme i titoli di questa edizione del Telegiornale Autopiomba contro un furgone fermo per lavori alla segnaletica stradale Ferito un operaio di 49 anni, trasportato al Torrette di Ancona con le ambulanze Si svolgeranno mercoledì alle ore 15 nella chiesa di San Paterniano Affano i funerali di Gianni Gentili, l'ex presidente dell'Alma Juventus e della Vis Pesero Scomparso all'età di 82 anni Ritrovato sano e salvo, l'anziano 82 anni di Calcinelli di Colli al Metauro Scomparso da casa, ha trascorso la notte la ghiaccio vicino ai binari della vecchia ferrovia A due anni dalla tragedia di Corinaldo, quattro comuni ricordano le vittime della Lanterna Azzurra Affano, appuntamento in piazza 20 Settembre Da oggi, nelle farmacie delle Marche, è possibile effettuare i test rapidi per il Covid Costano 19 euro e la risposta si ha in 15 minuti Tra poco, dopo il telegiornale Missione Salute E poi, primo cittadino, l'ultima puntata dell'anno, con il sindaco di Fano, Massimo Sec Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Partiamo subito dalla cronaca Doveva essere una giornata, una normale mattinata di lavoro per un 49enne operaio Invece si è trasformata in un incubo Quest'uomo, infatti, è rimasto gravemente ferito Mentre stava lavorando alla segnaletica in una strada in via Chiaruccia a Fano Stava lavorando per sistemare la segnaletica stradale assieme ad un altro operaio Quando un'auto si è schiantata contro il suo furgone È rimasto ferito l'operaio di Montemarciano ed originario di Bari 49 anni, che si trovava nei pressi del camioncino della segnaletica In una normale mattinata di lavoro sul ponte in via Tognolo a Chiaruccia di Fano Erano circa le 8.15 di questa mattina Quando una Ford Focus guidata da un trentenne di San Costanzo Ha urtato contro la parte posteriore del mezzo da lavoro Colpendo anche l'operaio che stava sistemando un cartello lì accanto Il ragazzo, a causa del sole che impediva la visione Non ha visto il furgone parcheggiato sul lato destro della carreggiata Finendoci contro Ad avere la peggio è stato l'operaio Trasportato con un'eleambulanza Atterrata in un campo adiacente al luogo dell'incidente Al torrette di Ancona Presenta fratture agli arti ma non è in pericolo di vita L'uomo alla guida dell'auto invece sta bene e non ha riportato lesioni Sul posto due pattuglie della polizia locale di Fano Per i rilievi di legge ed una dei vigili del fuoco Per mettere in sicurezza l'area Restiamo sempre sulle strade fanesi Prima la mara scoperta di non passare sotto il ponte della superstrada Poi la beffa di restare impantanato nel campo dove stava facendo manovra Protagonista è il conducente di un camion di 15 tonnellate Che oggi pomeriggio intorno alle 18 Si stava recando in un'azienda che produce barche nella zona industriale di Bellocchi Sempre a Fano Ma il navigatore gli ha consigliato la strada più breve E ha condotto l'autista su via Lucchino Visconti Che conduce la chiesa della Madonna della Colonna a tre ponti di Fano L'uomo, partito da Ravenna, ha provato a fare inversione nel campo adiecente Ma è rimasto bloccato nel fango In suo soccorso sono arrivate una gru e due pattuglie dei vigili urbani Che hanno chiuso la strada al traffico Per permettere ai mezzi di soccorso di riposizionare il camion sulla carreggiata Si svolgeranno mercoledì alle 15 Nella Basilica di San Paterniano a Fano I funerali di Gianni Gentili L'ex presidente dell'Alma Juventus Fano e della Vispesero Scomparso all'età di 82 anni Gentili, commerciante nel settore delle Pellice Patrona delle due squadre a cavallo tra gli anni 70 e 80 Si trovava all'ospis di Fossombrone Dove era ricoverato per una patologia cronica Ed è ceduto a poche ore dall'inizio del derby Più sentito dai tifosi Quello che ieri ha visto in campo al Benelli di Pesero La Vis contro il Fano Prima dell'inizio della partita Finita con uno 0-0 È stato osservato un minuto di silenzio Mercoledì il rito funebre verrà ufficiato da Don Luciano Torcellini Parroco della Cattedrale La chiesa di San Paterniano Non potrà contenere più di 174 persone Ma dal chiostro sarà possibile ascoltare la funzione religiosa Attraverso gli altoparlanti E si trova ancora ricoverato al Santa Croce di Fano L'anziano scomparso è poi ritrovato dopo una notte all'agghiaccio Vicino ai binari della vecchia ferrovia a Calcinelli di Colli al Metauro L'uomo di 82 anni ha riportato la frattura di una vertebra Sono state ore di apprensione Quelle vissute dai familiari di Augusto Scola L'anziano di 82 anni scomparso sabato dalla sua abitazione di via Flaminia a Calcinelli L'uomo è stato ritrovato vivo il giorno dopo Lungo l'ex linea ferroviaria in via Laghi A pochi metri dall'officina BBM Per trarlo in salvo i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare diversi rami A individuare lo saddleboarder Colli dei vigili del fuoco proveniente da Ancona Quindi un gioco di squadra? Eh sì, sì è stato bravo Un bel lavoro Come si chiama e quanti anni ha? Desmo è a sei anni Lavorati insieme da molto tempo? Sono tre anni che ci siamo certificati insieme Abbiamo avuto l'indicazione di fare questa zona dal nostro CL E da lì siamo partiti dall'inizio della ferrovia Ma poi dopo pochi passi è partito e c'è stato ritrovamento insomma Come gliel'ha segnalato? Abbaia, abbaia Quando trova una persona avviene con l'abbaio E poi giustamente anche una ricompensa? Certo, è una pallina la cosa così però per lui è tanto L'anziano che soffre di demenza senile è apparso subito lucido ma infreddolito Ha passato la notte alla ghiaccio accasciato su un fianco sotto la pioggia battente Era scivolato sull'erba lungo il dislivello di circa un metro e mezzo che separa i binari dal terrapieno L'annuncio del ritrovamento è stato dato in turno alle 11.30 Quando è arrivata una chiamata ai soccorritori che si trovavano nel punto di raccolta All'estito di fianco al ristorante Pantalini Le ricerche erano partite sabato sera con un grande dispiegamento di uomini e mezzi Dopo l'allarme lanciato dai familiari alla compagnia Carabinieri di Fano Comandata da Massimiliano Papale Siamo contentissimi, un ringraziamento particolare alla collaborazione dei Vigili del Fuoco Che ci ha permesso di rimvenirlo e rimvenirlo bene in salute Noi da ieri a seguito della segnalazione avuta all'incirca l'ora di cena verso le 8 Che ci siamo attivati, quindi tutta la notte con tutto lo sforzo possibile dei pattugli del territorio Abbiamo palmo a palmo setacciato l'intera zona Quanti militari, quante squadre avete impidato? Tutte le pattuglie del territorio, quindi sia quelle del litorale, Suffano, ma anche quelle dell'entroterra Fino a Fossombrone, Cagli, Cantiano, quindi lo sforzo è stato veramente massimo La prefettura aveva anche attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse Che ha visto scendere in campo tutte le forze di polizia insieme ai volontari della protezione civile di Colli al Metauro Già ieri erano partite le ricerche, stanotte alle 2 le hanno interrotte Questa mattina ci siamo riorganizzati e subito dopo l'organizzazione nostra abbiamo ritrovato la persona Sono intervenuti i cinofili di Ancona, Macerata, i nostri e il comando di Pesalo con un'unità di comando mobile Verrà portato all'ospedale? Penso proprio di sì, adesso è in mano ai sanitari, nel 118 Comunque tutto che siamo soddisfatti e felici oggi diciamo Augusto Scola è rimasto anche oggi al Santa Croce di Fano dove gli hanno diagnosticato la frattura di una vertebra Terminati gli accertamenti e le cure del caso potrà tornare finalmente dai suoi familiari sano e salvo A due anni dalla strage di Corinaldo, quattro comuni si fermano per ricordare le vittime Uniti nel ricordo per non dimenticare affinché queste tragedie non accadano mai più Fano, Mondolfo, Frontone e Senigallia si fermeranno domani in memoria delle vittime di Corinaldo Era la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 quando la discoteca Lanterna Azzurra persero la vita 5 minorenni e una giovane mamma di 4 bambini L'iniziativa che si terra domani in piazza 20 settembre è stata organizzata insieme al COGEU Il comitato di genitori e ragazzi che si è costituito dopo quella notte indimenticabile È un ricordo durante il quale si faranno delle letture personali Ma anche i ragazzi si presenteranno per far capire che sono ragazzi che sono stati capaci di trasformare il loro dolore In qualcosa di molto utile perché l'associazione COGEU da questa vicenda ha redatto un codice etico Ed anche un manifesto grazie al quale i comuni si impegneranno e tutte le realtà a far sì che i nostri ragazzi possano essere al sicuro Noi come comune di Fano lo abbiamo già adottato per cui sulla scia di questa indicazione Questa giornata nello specifico ci vedrà qui, ritrovate le 18.30 sotto l'albero In forma ridotta perché purtroppo quest'anno non possiamo fare altrimenti Ma faremo una diretta Facebook sulla quale ci potrete seguire Ci dispiace tanto non poter essere tutti presenti come una catena umana Come quella che abbiamo costituito l'anno scorso Ma vi invitiamo a seguirci in piattaforma perché queste sono le disposizioni E per tradurre al meglio il significato di questa giornata Precisa Brunori ci siamo messi all'ascolto dei ragazzi In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nella sala della Concordia L'incontro potrà essere eseguito sulla pagina Facebook del Comune e sul profilo del sindaco Massimo Seri Oggi pomeriggio nella chiesa di Gimarra è stata celebrata una santa messa per Benedetta Vitali A Marotta invece mercoledì 9 dicembre alle ore 20.45 Si terrà una veglia di preghiera in memoria di Asia Anasoni e delle altre vittime Alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo Sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito della parrocchia Inoltre il Comune di Corinaldo anche quest'anno allestirà per tutta la notte Un faro luminoso puntato verso il cielo da piazza al terreno Un gesto simbolico ha detto il primo cittadino Matteo Principi Con il quale vogliamo offrire un momento di riflessione e di preghiera Uno spazio di luce che sia di speranza Sono 18 i decessi legati al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore Si tratta di 11 uomini e 7 donne All'ospedale di Pesaro hanno perso la vita 7 persone Tra le vittime anche un'ottantenne di Fano che non aveva patologie pregresse Oltre all'anziano risultano altre due fanesi di 62 e 92 anni Un novantenne di Colli al Metauro, un uomo di 86 anni di Acqualagna Un novantunenne di Macerata Feltra e una anziana novantenne di Orciano di Pesaro Nell'ultima giornata sono stati rilevati 145 positivi su oltre 500 tamponi molecolari I ricoveri invece sono stabili, 600 negli ospedali marchigiani Invariato il numero di degenti in terapia intensiva che resta 82 Mentre è in calo quello dei pazienti in semi intensiva, meno 4 rispetto a ieri Per un totale di 134 Da oggi nelle farmacie delle Marche sarà possibile effettuare il test rapido per il Covid-19 Hanno un costo massimo di 19 euro e la risposta si ha entro 15 minuti È il giorno del debutto per i test sierologici rapidi Nelle farmacie sia pubbliche che private Grazie a un accordo tra la regione e le associazioni di categoria Federpharm e Assofarm Parte il servizio anche nelle Marche La prenotazione telefonica è obbligatoria Il test richiede una decina di minuti, 15 al massimo E il prezzo a carico del cliente non dovrà superare i 19 euro In alcune farmacie verranno realizzati dei percorsi ad hoc Per evitare contatti con gli altri clienti Noi ad esempio abbiamo aderito Però partiremo per un discorso anche di organizzazione logistica Per poter effettuare questi test in massima sicurezza Sia per l'operatore che per il cittadino Partiremo da mercoledì Abbiamo già cominciato a prendere gli appuntamenti E già l'appuntamento di mercoledì mattina è quasi pieno I cosiddetti pungidito che devono essere effettuati in farmacia e non a casa Sono rivolti a tutta la popolazione asintomatica E quindi senza febbre, patologie respiratorie o altri sintomi Lo screening servirà anche per avere una fotografia a livello regionale Dell'andamento epidemiologico Infatti il test individua gli anticorpi IgM e IgG Possiamo vedere se c'è un'infezione in atto Ed è recente Se è in atto o da più tempo Oppure se l'abbiamo avuto Però è bene sottolineare che anche in caso di negatività Ci potrebbe comunque essere una positività Perché come dicevamo La permanenza, lo sviluppo anzi di queste IgM Compare dopo circa 3-4 giorni Quindi abbiamo una finestra Dove il paziente può essere comunque positivo Ma non risultare dal test Sia in caso di negatività che di positività al virus Il farmacista dovrà segnalare all'Asur l'esito dell'esame E lo faremo attraverso una piattaforma Una piattaforma che si chiama GoPenCare Una piattaforma regionale Che già noi utilizziamo Sia anche per il discorso di celiachia O neforpatici o presidi per diabetici E tramite questa piattaforma In tempo reale l'Asur avrà il risultato del test E potrà valutare se effettuare poi il tampone molecolare o meno Noi in questa piattaforma inseriremo i dati del paziente Il codice fiscale è importante anche un recapito In modo che comunque l'Asur, come dicevamo Possa ricontattarli e valutare con loro il da farsi Per contenere la diffusione dei contagi Nell'ultimo fine settimana Le forze dell'ordine hanno controllato Oltre 660 persone nella provincia di Pesurubino Le violazioni contestate sono 6 il sabato E 4 la domenica Inoltre nelle due giornate sono state controllate 261 attività commerciali Con la contestazione di due illeciti Adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni Nel prossimo servizio vi faremo ascoltare la richiesta La richiesta di una persona E la testimonianza di chi da 50 anni Aspetta una strada asfaltata Stiamo parlando di via Lombardi Siamo nel comune di Fano Che presenta ad ogni metro almeno una buca Ogni volta che passa la macchina Gli schissimi arrivano fino a dentro casa Se voi guardate le porte Che ho due porte qua davanti È un disastro Poi uscendo qua a piedi Il fango C'è una cosa veramente vergognosa Basta guardarla Si commenta da sola Ci viene presentato così Lo stato di via Lombardi Nel comune di Fano Una strada a servizio di poche abitazioni Alla quale si accede dalla statale adriatica Ed in effetti potrebbe accaparrarsi Il record comunale di buche In così poche decine di metri Siamo dimenticati Hanno esclamato i residenti al nostro arrivo Tutti gli appelli ad oggi sono stati inascoltati Non è niente Quello tra poco Arriveranno le buche Che le persone ci vanno dentro Che siamo in un mare di guai Un problema che Non si risolverà mai In quanto nessuno Si è mai interessato Ci sentiamo Non dico abbandonati Ma Indifferenti alla vita sociale Siamo privi di un'isola ecologica Ci racconta il signor Nunzio Dobbiamo arrivare fino al supermercato Cray Per gettare la spazzatura Senza considerare che da qui La maggior parte dei residenti anziana Ci fa notare Per non parlare della pericolosità del tratto Che da sulla statale Non c'è uno specchio E per di più Viene permessa la sosta delle auto In un lato della carreggiata E quindi Quando si esce dalla via È necessario sporgersi con i veicoli Rischiando incidenti Mancano pure le strisce pedonali E una cartellonistica adeguata Voi avete inviato anche più lettere Per questi alberi La prima nel 2011 Perché è caduto Un tronco di queste dimensioni A pochi centimetri da me Io ho anche un bambino piccolo Che per fortuna Quel giorno c'ero io fuori Se ci fosse stato mio figlio A pochi centimetri Abbiamo scritto la lettera Abbiamo parlato con il verde Con tutto Però all'epoca ci avevano detto Che l'Alma Juventus Ha detto no È responsabilità del comune Il comune ha detto no È responsabilità dell'Alma Juventus Anche io ho detto Va bene li taglierò io Taglio io a spese mie Non è possibile Ecco ma questa strada È sempre rimasta così? Però prima c'era il mio marito Che lui se vedeva una buchina La giustava subito Adè dopo che ha avuto l'incidente Che è niente È un casino Un casino proprio Dentro casa Passano le macchine Perfè Nei vetri Gli sassi che vengono oltre È una roba impossibile Guarda Impossibile Anche camminando Insomma Tutta questa poltiglia La Malta Io a lui Anche lo vorrei portare fuori In braccieto Dove lo porto? Dove lo porto un po' È proprio stabile Però un pochino Per prendere l'aria Ce lo posso portare Ma anche se la carrozzina Dove vai? Che entri dentro È un fango È un casino Diceva signora Che è un pericolo Anche per i suoi nipotini Sì c'è un nipotino Che viene qui da me Va in bicicletta Gli ha detto anche il signore L'ha visto proprio cadere Perché si cade Io la pago per due case Le tasse Eh non lo so eh Ho diritto di passare Mi sono stancata Di andare in comune Una volta Sa cosa mi ha risposto Ho scelto una via di vecchi È così eh Guarda Lo dico eh Si terrà mercoledì 9 dicembre Davanti alla prefettura Di Ancona La manifestazione regionale Dei dipendenti pubblici Marchigiani Relativa allo sciopero Generale nazionale Indetto da alcune sigle sindacali Saranno circa 32.000 lavoratori Che aderiranno Ma in piazza del plebiscito Fanno sapere i rappresentanti Dei sindacati Ci saranno solo poche decine Di persone Nel rispetto Delle misure anti-covid Tra le richieste Il rinnovo Dei contratti nazionali Risorse per la formazione E l'aggiornamento professionale Oltre che nuove assunzioni E stabilizzazioni Dei precari A partire dal comparto Sanità Per rinnovare La pubblica amministrazione E coniugare La valorizzazione Dei professionisti Del pubblico Con servizi efficienti Ed efficaci Ai cittadini E adesso invece Andiamo a festeggiare E facciamo quindi Gli auguri A Nella Ceccacci E Fiorino Vagnini Residenti a Fano Che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Nozze d'oro Anche per un'altra coppia Fanese Paola Rovinelli E Paolo Mancini A tutti Gli auguri Da parte dei familiari Naturalmente anche Di tutto lo staff Di Fano TV Partirà invece Mercoledì Alla scoperta Dei presepi Il concorso Di Fano TV Dedicato ai presepisti Delle Marche Per partecipare Potete inviare Tre foto Oppure un video Di 20 secondi Girati con il telefono In orizzontale All'indirizzo E-mail Presepi Chiocciola Fanotv.it Subito dopo di noi Invece Missione Salute E poi L'ultima puntata Dell'anno Di Primo Cittadino Ospite Qui in diretta Massimo Seri I numeri per contattarlo Li vedete In televisione Ed è tutto L'informazione torna Con la rassegna stampa Domani mattina Alle 7 Naturalmente In diretta Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie